Eccoci benvenuti in questa nuova puntata di Volti. Spesso noi intervistiamo sacerdoti, ministri, consecrati, dei sacerdoti ognuno alla propria propensione nell'ascolto, nella parola, nella scrittura. Oggi con noi ci sarà Don Leonardo Manuli, a volte provocatore, uno scrittore, un blogger. È molto bello ascoltare le parole di Don Leonardo, lo seguirete tra poco. O rimanete con noi. Musica Eccoci in questa nuova puntata di Volti. Benvenuti. È sempre bello avervi qui. È sempre bello sfitarvi su questa piattaforma. Ringrazio inizialmente l'amministrazione comunale di Terranova Sappomenulio, nella persona del sindaco Ettore Pigani, per la concessione di questo bellissimo spazio. Qua ci troviamo all'interno della Casa della Cultura di Terranova Sappomenulio, all'interno della quale molte manifestazioni sono state ospitate, all'interno della quale spesso ci troviamo anche noi a registrare delle puntate, in questo caso di Volti. Oggi mi trovo, come anticipato precedentemente, con Don Leonardo Manuli. E come sempre lascio subito a lui la parola per dire chi è Don Leonardo Manuli. Innanzitutto, buongiorno Don. Allora, io sono un uomo, un prete, un credente in cammino, in scoperta, in ricerca. Mi piace scrivere, mi piace comunicare, scrivo libri, faccio web tv, radio anche. Sono direttore della testata giornalistica di una radio. E poi faccio il mio, tra virgolette, mestiere di prete. Quindi celebro la messa, prego, incontro. Di altro, ormai non gioco più a pallone. Una volta giocavo, facevo l'arbitro di calcio, faccio sport e vivo in mezzo alla vita quotidiana, in mezzo agli uomini e le donne di questo tempo. Spesso noi, Don, ospitiamo dei sacerdoti e chiediamo quasi sempre come hanno riconosciuto questa vocazione nel fare la missione di sacerdote. E' difficile, perché è un mistero. All'inizio si è presi dell'entusiasmo, perché la figura del prete nella nostra società, almeno ai miei tempi, spero anche oggi, è stata sempre una figura di riferimento. Poi tutto il cammino, gli studi, il seminario, lì anche la prova, la prova, le difficoltà, si entra in una fase di maturità e rivedi. Quindi, se è chiara o meno la voce del Signore, questo sarà il tempo a deciderlo, perché il sì, quel sì che noi abbiamo promesso davanti al Signore, è ogni giorno che si deve confermare. Quindi poi dall'entusiasmo io penso che si passa alla maturità, alla crescita, alle cadute, alle riconciliazioni. Quando è stato, Don, il momento preciso nel quale tu hai detto ok, questa è la mia strada, io farò il sacerdote? Ma il momento preciso non lo so individuare. So che io dovevo crescimarmi, avevo 24 anni. Ricordo con piacere il mio parroco, un cappuccino, padre Alessandro. e lì gli incontri mi piacevano, i momenti di preghiera, le riflessioni. E poi la figura del prete è una figura che mi ha sempre incuriosito. Nonostante io desideravo fare altro, perché mi ero lavorato in economia bancaria e il mio desiderio era quello di lavorare in borsa, fare l'operatore finanziario, il promotore finanziario. E poi le cose nella vita cambiano. Quindi dall'investire nel denaro, hai investito invece nella spiritualità. Quando hai cominciato a fare i tuoi studi teologici, qual è stata la scoperta più sorprendente, per così dire, che ti ha fatto veramente cambiare modo di ragionare in termini di fede? Ecco, ha detto ecco, questa scoperta mi mancava. La filosofia, che bella. Io ho studiato, io di questo devo veramente ringraziare il Signore, perché la mia vita è fatta di studio, la laurea statale, poi fino al dottorato in teologia. Però i primi cinque anni, sono il quinquennio teologico-filosofico, io ho scoperto la bellezza della filosofia, perché dai gesuiti non ti danno una... ti fanno studiare anche autori non credenti, autori che noi definiremmo così dal nostro punto di vista cattolico-eretici, però ti fanno ragionare. E per me la filosofia, avrei voluto continuare a prendere anche la licenza o la laurea, è stata veramente una bella scoperta nella mia vita. Io ti vedo, Don, spesso con la penna in mano, ecco, come in questo momento. Forse una... ti senti comodo a tenere una penna in mano. Anche se oggi si scrive al PC, tu sei principalmente uno scrittore. Ho notato che scrivendo al PC, perché per questioni di studio, di lavoro, avevo dimenticato a scrivere. Allora io qui annoto i pensieri, pensieri non solo personali, ma pensieri che mi colpiscono. Allora porto questo taccuino e la penna, perché può darsi che c'è un pensiero che mi passa e lo voglio imprimere sulla carta. Per me la carta è ancora importante. Quindi hai questo contatto fisico ancora con carta e penna. No, ci vuole. Anche i libri, sì, ci sono gli e-book, no, però io preferisco i libri, voglio evidenziarli, sottolinearli. Sì, è una quasi necessità a volte, avere proprio un contatto fisico con la carta. Io Don ti seguo spesso, tu hai un blog, tu scrivi tanto, usi social. Io purtroppo per fortuna non ho social. L'unico social che uso è YouTube o comunque lo stato di WhatsApp. E là spesso ti seguo. Là tu lanci delle frasi, riflessioni molto brevi, ma incisive e molto, molto provocatorie. Cioè veramente provocano uno scossone all'interno della giornata che ti fanno dire, ok, fermiamoci e riflettiamo su queste cose. Ti senti di essere un sacerdote provocatore? Sì, mi piace entrare nella figura dei non allineati, dei ribelli, tra virgolette, ma anche pensare, a me la cosa che mi dispiace nelle comunità, nelle parrocchie, che a volte non si pensa, si vive, c'è questo ossequio verso il capo, verso il capo, verso, tra virgolette, il potere. Non si discute, non si fa filosofia, non si fa teologia, non si discute di veri problemi concreti, sociali. Si conduce a una vita intimistica, sempre le solite cose, gli schemi, siamo ingabbiati, non bisogna pensarla diversamente. E questo contraddice lo spirito vero, anche del Vangelo, che è la libertà. È anche un andare controcorrente, no? Ci insegna Cristo veramente ad andare controcorrente e affermare quella che è la verità. Lui è stato il primo Gesù che è andato controcorrente. Si è schierato contro i poteri, le autorità, contro il pensiero comune. Ma questo con il tempo, l'ho capito successivamente. Poi sono stati anche i miei studi, le esperienze della vita. Ho compreso più profondamente la realtà e anche l'istituzione in cui io vivo. L'esperienza, se posso condividerla più forte, è stata il momento in cui si è censurati. E allora lì capisci che quando viene impedita la libertà di pensiero e di parola, ne soffri. Lì c'è una spinta e il coraggio di reagire diversamente. A volte dono un comportamento, un qualcosa di fisico, non è così incisivo come la parola. Perché la parola per chi la accoglie ti trasforma e ti forma. Quanto è difficile oggi, secondo te, riformare una nuova mentalità, soprattutto in Calabria? Ma io su questo sono pessimista e anche una deformazione per gli studi, le letture, ma anche per le esperienze che io ho fatto. Guarda, venendo qui parliamo di cose concrete, reali, che hanno un impatto, ma anche del mio paese. Io quando vedo le erbe o ruderi che spuntano in un centro cittadino, vedere l'immondizio gettato ai margini delle strade, vedere l'incuria di siepi che inondano la strada, i rovi, questa è la mentalità. La mentalità contraria dovrebbe essere non abituarmi mai all'incompiuto che vedo, perché c'è una cultura che purtroppo prevale in Calabria, tra virgolette, è la cultura del brutto e di cui l'andrangheta ne beneficia, perché l'andrangheta è contenta quando sente il cittadino che si lamenta, lo Stato non c'è, lo Stato non aiuta, sempre questa delega, no? Delega, e l'andrangheta vive dell'insofferenza della gente, del popolo e della comunità. Quindi non vuole una popolazione soddisfatta e felice. No. Perché la bellezza ti ferisce a volte, no? Esatto, e poi si rivolgono a loro quando hanno bisogno di qualche cosa. Mentre facevi questo esempio della strada, però, mi piace pensare che forse un atteggiamento che dovremmo cambiare in modo civile è che dovremmo necessariamente riconsiderare la strada, comunque i luoghi pubblici, non più come luoghi di nessuno, ma come luoghi di tutti. E proprio interpretando questa nuova esigenza di considerare i luoghi pubblici come luoghi di tutti è sia mio, sia tuo, sia degli altri, e quindi lo devo necessariamente rispettare. Mentre se è un luogo di nessuno, possiamo fare la qualsiasi cosa. La Calabria purtroppo è così. Ma forse, Don, perché siamo abituati a essere conquistati da tutti. Qua sono passati gli spagnoli, gli arabi, i turchi, cioè tutti hanno invaso la Calabria e noi ci troviamo contaminati da diverse culture. Forse abbiamo preso anche le cose sbagliate, soprattutto le cose sbagliate da altre culture. Tu, Don, dicevamo, hai scritto ad oggi 16 testi, 16 libri, quindi la tua opera letteraria è molto ampia. Noi qua vediamo solo alcuni dei testi che tu hai portato, ma non sono solo questi. Un testo molto voluminoso, tra i tanti, è Chiesa Giovani e Ndrangheta in Calabria. Questo testo è non solo voluminoso, ma ha un contenuto molto forte. Potresti cortesemente sintetizzare, anche in due minuti, uno spaccato, questo libro e come ti è venuta l'idea di racchiudere in un libro quei pensieri molto forti, quando eri comunque molto più giovane? E' il mio figlio primogenito. Ho scritto gli altri libri che derivano da questo, però lo considero l'unico, perché lì ho scommesso la mia vita, la mia economia, i miei anni, mi sono sacrificato perché ho studiato, ho girato, ho lottato, contro anche tante tentazioni che ci sono state. Per questo poi ho voluto che fosse pubblicato. E' un lavoro multidisciplinare, perché c'è teologia, società, antropologia, economia, cultura e parla del rapporto, proprio entra nelle viscere della Calabria, nelle viscere di noi stessi. La Chiesa, i giovani e l'Ndrangheta. Questo fenomeno complesso poliedrico che ancora ha bisogno di studio e che purtroppo è sottaciuto, perché noi viviamo in una mentalità che tende a rimuovere, una mentalità che definisco di coscienze narcotizzate, annichilite. Meglio non parlarne. Ma perché si ha paura o perché non si conosce a fondo questo fenomeno? Non si conosce e si ha paura. Entrambe le cose. Entrambe. E in questo contesto la figura del sacerdote, attraverso le omerie, attraverso l'operato concreto, quanto può incidere? Non è facile per un sacerdote. Poi, soprattutto se il sacerdote non sa porre dei gesti alternativi. Si può fare un esempio, è il beato padre Pino Puglisi. Lui di Brancaccio, ritorna a fare il parroco a Brancaccio, eppure ha compiuto gesti alternativi di legalità, gesti alternativi ai capi mafiosi, al clan locale. Se poi ci si adegua, ci si adatta, ci si comporta come gli altri, la gente non nota questa differenza. Ah, guarda, cammina a braccetto con i mafiosi, con i politici, si mette i soldi nelle tasche, non è chiaro, non è trasparente, ecco, mancano proprio questi gesti alternativi. Quindi un prete, tornavamo all'essere controcorrente, deve anche attraverso i gesti pubblici essere controcorrente. Tu di Don Pino Puglisi, donna, hai scritto un volume. Due ne ho scritti. Due volumi. Qual è la cosa particolare che di lui ti ha veramente colpito e che hai approfondito in questi testi? Allora, il primo, che mi ha fatto anche una prefazione, è la suora che collaborava con lui, suora Carolina Iavazzo, e la follia del sorriso. Mi ha colpito il sorriso di padre Puglisi. E l'ho scritto in un momento di sofferenza, di delusione verso la Chiesa. E mi ha aiutato alla figura di padre Puglisi, mi ha convertito. E allora ho iniziato a studiare, a leggere. Poi, visto che siamo a 30 anni dalla sua morte, quindi si celebra questo anniversario per conoscere, approfondire la figura. Che pensa, pensa te, a Palermo non era conosciuto e tuttora non è conosciuto. Tu mi puoi domandare come lo sai? Perché la mia parrocchia, sono stati loro, dopo che ho presentato il libro, hanno pensato di andare a Brancaccio. E siamo andati. Li abbiamo ascoltato alcune testimonianze. Mi ha colpito quel luogo. E mi dicevano gli operatori del centro padrenostro che ha voluto padre Puglisi che sono pochi i sacerdoti o i laici che vanno nella casa museo di padre Puglisi a visitare, a trovare. E questo indica che sono delle figure così umili, non forti, non degli eroi, così umili che sono evitate. Infatti padre Puglisi non era conosciuto, nessuno sapeva di lui. È stato lasciato probabilmente molto solo nel contesto dove operava. Non ha avuto un seguito. Oggi questo seguito ce l'ha? No. Ancora oggi? Il fratello disse, mi ha colpito un passaggio che fece il fratello. Io avrei voluto che fosse vivo piuttosto che beato. E poi disse, non fatene un santino da baciare, cioè una reliquia da baciare. Noi nella mentalità in cui viviamo, molto devozionale, la cosiddetta pietà popolare o religiosità popolare, che a volte anche c'è la complicità da parte dei preti, dei religiosi, no? Noi siamo contenti quando i fedeli baciano. Baciano la statua, baciano il santo, baciano la reliquia, fanno le riverenze. Però perché non andiamo a leggere la vita, la storia, le opere, la figura? Perché è una religiosità senza impegno. E questa poi non è più fede, ma è un intimismo. È un modo di vivere la religione e non la fede. Perché la fede è essere testimoni, esporsi, come dicevi anche tu, no? Esporsi, metterci la faccia. Che è molto difficile e impegnativo. Qual è oggi la provocazione della fede all'interno comunque di una società che di religione purtroppo ormai si è allontanata? Perché noi non vediamo una forma di religiosità come una volta. Basta vederlo nelle processioni che nei nostri paesi ancora si fanno che la popolazione sta sempre più diminuendo coloro che seguono queste pratiche devozionali. Ma anche le chiese si svuotano. Allora sta mancando la fede o ci si sta allontanando dalla religione? Che sono due cose differenti. La fede è pensare. Tutti siamo religiosi. L'uomo nasce religioso, no? Non è soltanto l'uomo ama il gioco, ama produrre, lavorare, commerciare. L'uomo è anche religioso. Però la religione e la fede si avvicinano, però si distinguono. La fede è pensare. Se a me la fede non mi fa pensare, vuol dire che non sono una persona libera. Io devo aiutare a pensare. Le mie omelie, lo spero, mi auguro, devono essere delle omelie che provocano, che fanno riflettere. Perché nelle nostre comunità, io mi domando, non ci chiediamo, ma dopo questa vita che cosa ci sarà? Ma Dio c'è? Ma Dio, punto interrogativo, è cattolico? Oppure qual è il mio impegno nella Chiesa, nella società? O i temi caldi, quelli su cui noi siamo sempre in minoranza, l'eutanasia, l'aborto, il divorzio. Dovrebbero portarci, non ad aderire in maniera così dommatica, però a riflettere, a pensare. Ma la vita, che cos'è? Oggi ci troviamo nell'ambito veramente di un grande cambiamento antropologico. Non sappiamo più chi è l'uomo e la donna, il maschio e la femmina. Però questo dovrebbe portarci a pensare, a riflettere. E poi a fare anche una nostra proposta di fede, di religione. Anche perché sono temi caldi di bioetica, l'inizio e il fine vita, che bisogna ripensare alla luce delle nuove tecnologie che ci cambiano proprio gli schemi mentali iniziali. E la Chiesa in questo ha sempre comunque avuto una parola forte. Manca però poi il seguito di spiegare il perché un sì e il spiegare perché un no. Oggi, donna, tornando nella nostra terra, in Calabria, tornando ai giovani, alla fede, alla religione. Secondo te qual è l'esigenza più impellente di un giovane quando si avvicina a te o comunque nella tua parrocchia? Farlo pensare. Quindi torniamo sempre alla produzione di pensiero. Deve farlo pensare, riflettere, domandarsi, avere passione, bruciare il cuore. Io quando incontro un giovane non devo inculcare o trasmettere o riversare su di lui, come si dice, il mondo della conoscenza. Ma devo aiutarlo a farlo riflettere. Quando io ho iniziato questo percorso di fede, mi domandavo, continuo a domandarmi, continuo ad essere provocato. Cioè io devo pensare. La Calabria, il nostro contesto, la nostra Chiesa anche locale, avrebbe bisogno di pensiero, di riflettere, di mettersi in discussione. Sì, oggi una parola, uno slogan che si usa spesso è sinodo. Ma si pensa in questo sinodo. Ma un pensiero che deve essere nuovo, sovversivo, liberante. Dove io mi sento veramente a casa, anche se una posizione minoritaria, che magari è un pensiero che non è condiviso, però deve essere incluso nell'ambito di una determinata discussione. Quindi, Don, questa logica sinodale dovrebbe essere anche uno specchio, per così dire, della nostra società, che include tutti, ne ascolta le esigenze e poi prova ad analizzare nuovamente e a dare risposte. Quanto si è fatto nell'ultimo sinodo diocesano di questa prospettiva, di questa dimensione dell'ascolto delle esigenze di un territorio e della necessità di dare risposte? Allora, io parlo a livello generale di sinodo, da quello che ho letto, a cui ho assistito. Il sinodo non ha a che fare con un determinato periodo di tempo. Il sinodo deve esserci sempre, no? Perché la Chiesa forse si è abituata a produrre documenti. Allora, ci vediamo, ci incontriamo per tre anni, facciamo poi un documento finale ed è finito. Il sinodo è sempre un continuo cammino, un continuo ascolto. La parola sinodo significa proprio questo, no? Camminare ascoltando. Se poi noi abbiamo bisogno di parate ufficiali, promozionali, propagandistiche, allora quello non è più un sinodo. È una autocelebrazione che si fa per dire, vedete la Chiesa che ascolta, la Chiesa che è vicina, è prossima agli altri. Il sinodo è proprio questo, mettersi in discussione però fino alla fine dei tempi. Secondo te questo allontanamento dalle Chiese in generale deriva anche da una non presa di posizione su alcune tematiche? No, secondo me deriva perché c'è anche una indifferenza religiosa. Noi oggi vediamo soprattutto l'Europa, il cosiddetto Occidente, civilizzato, industrializzato. L'Occidente fa molta fatica, la secolarizzazione, la postmodernità, l'individualismo, al di là della Chiesa e purtroppo a volte anche della cattiva testimonianza. Secondo me quello che allontana ancora di più è questa complicità con il potere. Ricordiamoci, ritorniamo indietro a quello che abbiamo detto prima, no? A proposito lo maltrattiamo, mi perdoni il Signore Gesù, no? E quando noi lo nominiamo a nostra convenienza. Infatti a volte in alcune discussioni dico non parliamo di Gesù perché noi lo utilizziamo in base... Lui si è schierato contro il potere, cioè la croce è il non potere. Noi dovremmo guardare di più la croce perché Lui ha manifestato una riluttanza verso il potere. E' l'umiltà di... quando noi diciamo nelle nostre pregheri Dio onnipotente, ma onnipotente di che cosa? Dio ha rifiutato ogni potere. Il potere è la croce, cioè l'umiltà e il servizio di donare la propria vita nonostante il rifiuto anche da parte dei Suoi amici più intimi. A me colpisce, guarda, il tenere fisso lo sguardo sulla croce. Noi ce l'abbiamo sui nostri altari. Sai, i liturgisti discutono, deve guardare l'altare, deve guardare il popolo, ma noi la guardiamo. Ed è la croce che ci insegna come vivere il potere e come vivere il servizio. Tu pensa che in questa città dove ci troviamo, a Terranova-Sappominuglio, il crocifisso è il nostro protettore, no? Siamo la città del Santissimo Crocifisso e anni fa Monsignor Riboldi, che è stato ospitato a Terranova-Sappominuglio dai missionari dell'evangelizzazione, in particolare all'epoca padre Rocco Spagnolo ha organizzato questo convegno invitando proprio Monsignor Riboldi, faceva questa riflessione. I calabresi, in generale il meridione, è innamorato del Santissimo Crocifisso perché si identifica con il crocifisso in croce. Faceva questo passaggio perché da calabresi ci sentiamo crocifissi con lui e legati, mani e piedi, in una forma, in una struttura che ci limita quasi, che ci inchioda a, diceva lui, questo territorio. È come il crocifisso, soffriamo per amore e le pagine della nostra Calabria sono scritte col sangue di chi è stato crocifisso insieme a Cristo. Ed ha fatto una bellissima riflessione. Tu ritorni nell'esigenza di guardare il crocifisso. Mi è piaciuto anche il passaggio che hai fatto sulla Chiesa come momento di analisi e poi un successivo momento di prassi. E che tra l'analisi e la prassi poi c'è un qualcosa che ci sfugge. A me colpisce il crocifisso, non soltanto quando io lo guardo sull'altare o quando entro in Chiesa, no, è sempre al centro. Ma mi colpisce perché mi fa capire il Dio in cui credo, qual è la vera potenza di Dio che mi richiama. Noi qualche settimana fa abbiamo celebrato la trasfigurazione, no, dalla defigurazione alla trasfigurazione. Poi c'è un bel libro di Ratzinger a proposito della bellezza della croce. Però attenzione al potere della croce. La Chiesa oggi, se vuole essere credibile, deve allontanarsi dal potere mondano. E qual è in questo, Don, il ruolo del sacerdote? Perché se non è un sacerdote... Non solo il sacerdote, anche il semplice battezzato. Certo. E la profezia, guarda, per non parlare di cose astratte, padre Pinopuglisi, ma che cosa ha fatto di speciale? Doveva raccogliere i soldi per il centro padre nostro. Biglietti ben registrati, pagamento alla CIA. Gli dicevano le persone, no, ma dobbiamo pagare le tasse. Deve essere fatto tutto in maniera legale. Il cestino all'entrata della Chiesa, così nessuno possa esibirsi nel fare l'offerta. Non usare la violenza o l'aggressività nei confronti degli altri o dei ragazzi. Perché la mafia che cosa faceva? Utilizzava questa forma violenta di dominio. Sono questi i gesti alternativi alla profezia. camminare in maniera, e vestirsi in maniera sobria, persimoniosa. Non essere così apparenti o mostrare questa potenza che si ha. Ma se tu vedi il mafioso, ma anche chi aderisce ad una mentalità mafiosa, il cosiddetto mondo di mezzo, come manifesta il proprio potere? Con alcuni simboli esteriori che... Se ti vedono con collana, orologio, macchina, case, vacanze, quella è una manifestazione, è una legittimazione. Io dico ai miei parrocchiani, che poi non sono i miei perché sono del Signore, dico ai miei, tra virgolette, attenzione ai segni. Poi la mafia, l'andrangheta, è sottile nei segni. Soprattutto in alcune celebrazioni, come i funerali, i battesimi, ci sono dei segni che noi non riconosciamo. Io, purtroppo, dico purtroppo, no? Per la mia deformazione professionale riesco a volte ad individuarli. E questa partecipazione enorme, gli ossequi, alcuni segni che si fanno indicano proprio questo, la legittimazione, il abbassare la testa verso il potente di turno. che poi si ha anche verso i politici. Tema molto delicato che affronteremo. Molto delicatissimo dalle nostre parti. Sacerdozio e politica. Dialogo tra sacerdozio e amministrazione locale. Come deve essere impostato? Ma a volte si accusa la Chiesa nei suoi rappresentanti di fare politica. Io non ho mai fatto politica. Anche se in passato, prima di entrare in seminario, mi piaceva la politica. Io ero impegnato politicamente. Ero ragazzo. Mi piaceva interessarmi di politica. Il sacerdote deve essere un uomo in mezzo alla società e deve interessarsi dei problemi delle persone. E se viene interpellato deve portare queste istanze agli amministratori. E deve denunciare. Ricordiamoci che il Battista si è giocato la testa. Ci sono dei momenti in cui tu non puoi tacere. Se un'amministrazione spende una parte notevole del proprio bilancio per manifestazioni ludiche e poi si dimentica dei poveri, degli ammalati, dei bisognosi, degli anziani, chi è che grida contro questa ingiustizia? C'è qualche sociologo, qualche prete, qualche politologo che denuncia. Io questa cosa non la digerisco, non l'accetto. Io non andrei mai a spendere per una festa soldi per un cantante, per una banda e poi mi dimenticherei di persone che mi dicono Don Leonardo ci sono dei beni della Caritas perché non arriviamo alla fine del mese. Ti piange il cuore? Certo. E quindi c'è l'esigenza, come dicevi tu prima, di essere profetici. Il profeta è questo. Il profeta è colui che va contro. Padre, io ritorno sempre a Padre Pinopuglisi perché sennò i nostri discorsi rimangono astratti. Lui vedeva bambini che non andavano a scuola, gli anziani o disabili che stavano a casa e non potevano essere curati. Questo centro che lui aveva creato, il centro Padre Nostro, aiutava, era un centro di ascolto dove si rivolgevano a loro perché lì non c'era una istituzione adatta, c'erano soltanto il clan mafioso. Allora, quando loro videro che si rivolgevano al prete piuttosto che ai capi, allora lì iniziava a dare fastidio Padre Pinopuglisi. Lui è stato un prete, non dico un prete sociale, ma un prete del Vangelo, perché il Vangelo è questo. Gesù dove andava? Dagli ammalati, dagli storpi, da coloro che erano abbandonati, dalla samaritana, dalla prostituta, per reintegrarli nella società, che la società escludeva. Però il profeta ha un prezzo da pagare. Che prezzo paga oggi la persona profetica? Ma è di tutti i colori. Quando mi dicono, o ti dicono, che sei un pensatore, un intellettuale, che parli troppo, che ti schieri, il prezzo è quello di essere considerato un folle, uno che se le va a cercare. Un giorno mi disse un prete, se io mi sto confessando davanti alle telecamere, io vado d'accordo con tutti perché non do fastidio. Ma questa non è la vita del prete. Perché guarda, il prete vive una vita comodissima. Lui celebra la messa, fa il suo dovere, la catechesi, fa l'omelia, fa quelle sue cose, e poi arriva lo stipendio alla fine del mese. Ma io, se avessi voluto fare questo, sarei andato a lavorare. Cioè, il prete invece deve scuotere, sollevare le coscienze. È bello quando la vita è vissuta fino alla fine. Per questo la vita di un martire, non siamo chiamati a diventare martire, però è scritto nel battesimo, no? È scritto in quel contratto che noi abbiamo fatto con Gesù Cristo. È chiamato ad esporsi. Se io non faccio un gesto alternativo, e vivo la vita troppo comoda, è facile dire la messa, è facile partecipare a messa. No, vado, partecipo a messa, mi faccio la comunione, ma qual è la mia testimonianza diversa che ho dato? È una riflessione che io faccio. I tuoi colleghi non sarebbero contenti di ascoltarti in questo spaccato di vita comoda del sacerdote. Ma sono più santi e più bravi di me, guarda, assolutamente. È che io ho il problema della parola. Io mi sento sempre balbuziente, come diceva pure era Mosè o Geremia, no? Parlo perché ritorno sempre alle mie origini e mi chiedo perché mi sono fatto prete? Ma mi sono fatto prete solo per celebrare la messa? Sì, io so che le persone ci vogliono così. Un giorno una vecchietta, semplice, devota di fede, si avvicinò a me e mi disse così. Siete bravi, sapete che per me la ricetta è la messa? Perché la gente vede il prete solo in questo, tenendo presente che la messa è il cuore, l'eocarestia, però non deve essere erito, fermarsi soltanto al rito a quel momento. Poi deve essere eocarestia. Quando io vado in una famiglia dove so che c'è una difficoltà, c'è un ammalato, una persona è stata arrestata, tempo fa ho saputo di una situazione particolare, io sono andato, li ho trovati. Magari potrei essere giudicato perché è intervenuta la magistratura, la polizia, io ci devo andare lo stesso, devo portare la mia vicinanza e poi devo dire camminate sulla via della giustizia. Questa è l'eocarestia, diceva Don Tonino Bella, la messa è finita, non andate in pace. Andate e scuotete le coscienze. Se potessi guardare una telecamera a tua scelta e dare un messaggio forte a un giovane che in questo momento ti sta guardando, cosa diresti? Qualche giorno fa abbiamo celebrato la memoria di Santa Chiara e Santa Chiara prima di morire, ora non mi ricordo la frase precisa, disse così, ha benedetto Dio per il dono della vita ed è bello quando la vita è vissuta, è spesa, è pensata ed è donata. Sono parole che mi sono venute nel momento spontaneo, questo auguro ad un giovane in cui mi rivedo quando io ero più giovane, pieno di vita, facevo tantissime cose, sono anche oggi pieno di vita, ma mi ricordo a quel tempo la politica, scrivere, desiderare un posto di lavoro e anche fare il prete per me era ed è una scommessa. in una società che oggi non accetta il ruolo del prete, non condivide quello che fa il prete, quindi ancora c'è una pienezza di vita e vedo nella mia vita questo chicco di grano che deve ancora esplodere per dare nuova vita. E' molto bella questa immagine di come il chicco di grano morire per quello che si è, solo morendo per quello che si è poi fiorisce la vita. Qual è invece il ruolo del laico all'interno della nostra società, contestualizzato all'interno di quello che ci richiamava il Concilio Vaticano II su quello che dovrebbe essere il ruolo del laico nella Chiesa? Ma sul vero senso della parola è quello di essere sacerdote, re e profeta, ma non come, è una frase troppo fatta, di provocare la Chiesa, perché il cuore della Chiesa sono veramente i laici. Noi che siamo nell'ambito della gerarchia, che siamo ministri, a volte soltanto veniamo visti come i sacerdoti che ufficiano un culto ed è finito lì. Ma il laico è il cuore, il fermento, il lievito, perché il laico vive la sua vita in mezzo al mondo, in mezzo agli altri, e anche in mezzo a questo pluralismo culturale, religioso. Deve provocare la Chiesa, come tu, no? Se sei laico, devi provocare, devi essere un contestatore, altrimenti la Chiesa rimane sempre immobile, preferisce dei fedeli o dei preti o dei religiosi bigotti che bassano la testa, che fanno i compromessi, ma qui poi noi ci allontaniamo dal Vangelo. Certo, quindi un laico deve necessariamente, proprio per necessità, essere critico, nel vero senso del termine di critico, cioè veramente vagliare tutti i fatti in un contesto evangelico. Ed essere crocifisso. Noi siamo nella città del crocifisso, no? C'è un culto, c'è una devozione che è grande, vengono da tutte le parti, ma guardiamolo più profondamente, il crocifisso. Io dicevo ai miei parrocchiani, quando è successo tempo fa, un incendio, è successa una cosa particolare. si sono bruciate diverse abitazioni che non erano in disuso. In un tabacchino è rimasto il crocifisso, non si è bruciato, si poteva anche bruciare. Poi è andato un pompiere, un vigile del fuoco e l'ha prelevato. Secondo me lo doveva lasciare lì. Quello sta a significare che lui è sempre presente, anche nella violenza, nella bruttezza, e anche nel dramma. E caso, caso, che secondo la fede non esiste il caso, prelevando quella croce sono rimaste altre croci. Io ho detto ad alcune persone, ma avete visto che ci sono delle croci? Non riescono ad individuarle. Forse sono folle io nel vederle, ma io le vedo queste croci. Certo. Don, in chiusura, qual è la tua gioia più grande? Ma la gioia è poter aver dedicato questa giornata, condividere, magari suscitare dei pensieri, suscitare qualche cosa. Perché io, quando tu mi hai chiamato, io ho aderito con grande gioia, avrei potuto andare al mare, non dire, me ne vado al mare, quindi domenico magari farà altre cose, intervisterà qualcun altro. E poter continuare questa missione nell'umiltà, essere un seme. Mi piace l'espressione di un monaco, Giancarlo Bruni, noi siamo un seme destinato a diventare albero. Bella questa tua riflessione. Grazie ancora Don. Grazie a te. Torna a trovarci. E un saluto a tutti voi. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a te. Grazie a te.